wow wow ragazzi benvenuti in un'altra puntata con Don Vito oggi siamo nel free weekend di Code Black Ops 3 e beh per voi proverò Black Ops 3 non so una amante della serie multiplayer Black Ops alle spalle che lezzo che sei ma mi diverto più o meno ho sbagliato mi confondo con un altro botone ecco già iniziamo male per questo qua voglio fare giochi schifosi 2 ma per fortuna ho fatto una partitina prima non è tanto non pensavo pensavo di peggio no è stato l'altro lato che palle io cerco dritto qua muori si affanchiave butta la bomba random che funziona quasi spesso buttare una bomba random maledetta demone perché a parte che ho aggiornato una partita già iniziata mi hanno messo nel team che è aperta non so per quale motivo madonna odio sto gioco perché due colpi e muori solo per quello l'odio questo gioco cioè che vuole l'unica cosa negativa per quale motivo ci hanno messo solo ed esclusivamente due anni cretino sono un altro amico ah l'ho sparato il razzo in faccia nemico a terra hc xd nemico nell'area attenzione uav nemico in arrivo uav alleato in arrivo si muore ah sto per fare una da più so che faccio cacare perché non sono amante della serie però dai dai che faccio una provata forse se tutto va bene ah maledizione lanciarazzi che ci mette mezz'ora a caricare no sbagliato mossa mi sono ucciso con la bomba ma quando cazzo esplode la bomba ho sbagliato penso che era un amico invece un amico da dove sta ma hai detto camper del cacchio dai però la cosa negativa cioè non ti fa nemmeno divertire come i veri fps qualcuno sarà passato qua cioè ok finalmente ok un altro è fatto e scusa sono già 12 uccisioni che cioè 10 12 volte che sono morta a me la soddisfazione di farne una mamma mia ora sono diventato un arcire mamma mia mamma mia sono un pro sono un pro so che ti ho visto mamma mia mamma mia però dai ho fatto non so quante uccisioni di fila dovete vincere fatelo per l'accordo perché non mi fa avviare il cioè non mi fa avviare i bonus no ma hai detto c'è chi no ma maledizione dai che voglio fare qualche uccisione almeno così uffa non so per quale motivo della serie break ops sono modalità zombie mi piace cerchiamo di fare una seconda partita e poi vi devo far vedere una cosa che a me non piace molto di del nuovo break ops e eccomi fu l'arma poi sembra quella di prima ma spero di far meglio perché ah vabbè ho fatto una prima uccisione appena sono entrato già sono soddisfatto ho cambiato diciamo personaggio mi sono preso diciamo quello che fa la scossa a terra e vi uccide i nemici che ci sono attorno vediamo camperiamoci di avere vedere di avere la regola odio i camper però ok sto nella zona spero di e vai vai vieni qualcun altro sotto oh madre sono spaventato alzati muori non hai detto ah per quale motivo il minino non mi si è mi si è dato cioè appena sono entrato già già abbiamo finito ci vediamo cioè perché scrivo certe parolacce cioè perché scrivete certe parolacce quanti anni avete madonna mi dà fastidio sa cosa se siete minorenni non vi dovete nemmeno permettere di giocare ci si vede a breve e siamo con le persone di prima e beh con diciamo una nuova partita e speriamo di poterla vincere senza fare qualche figura di merda c'è uno mi ha detto stai zitto mutati nel menu mutati nel menu ah merda già sono morto ah mi scordo sempre di posizionare i tasti per potermi abbassare vai ah merda vabbè dai a meno il brutto di questo gioco non è che perché ho un pc ho un pc cioè mi gira a crisis e wow face in l'unica cosa negativa di questo gioco che a volte ti dà giusto quel mini lag perché ho premuto il tas che non dovevi premere eh niente l'unica cosa negativa che a volte dà questo problema che dà abbastanza fastidio pensavo che era un nemico invece un nemico assist già che ho fatto un assist sono felice quando ne stanno arriva un storm ah merda ah se avevo se avevo preso il cioè il ruffa non mi viene il nome il bazooka prima che mi avesse ucciso avevi fatto un paio di stragi mamma mia sono un pro sono un pro per questa cosa voglio 100 like vabbè me la appena la tengo 100 hai visto mi fa questo mini freeze che dà molto fastidio do e niente l'unica cosa negativa è che ha questo mini freeze che su tutti i pc su tutti i pc è è un'altra cosa che non sopporto che ovvero non soltanto si deve comprare questo gioco ma certi diciamo scioppano certi scioppano per certi scioppano per diciamo per poter avere dei bonus per le armi roba del del genere ora dopo vi spiego in che senso scioppano quindi vabbè però non è giusto che cacchio di arma cioè tanto vale facciamo mettere pure i kamikaze che danno punto se ti fai esplodere e facciamo prima dai 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 c'è stato un morto qua pensavo che ero un amico nostro ma perché io gli ho sparato addosso non è che è morto cioè gli ho sparato il razzo cioè non è giusto cioè non ha ah senta un schianto gravitazionale vuole uno schianto gravitazionale ho fatto la skin mamma mia la ucciso la uccisione amico nemmeno l'astis mi hanno usato dai UAB di disturbo alleato in arrivo UAB alleato in arrivo dai 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 che voglio almeno non ti dico vincerla però un paio di uccisioni voglio farle no che cacchio mi sto confondendo con i tasti di altri giochi ecco perché non riesco a fare la scivolata che poi la scivolata la scivolata la scivolata guarda che il primo gioco la scivolata degli FPS non primo gioco però un gioco molto noto è stato Warface dopo Titanfall e dopo Bekox ma perché gli ho sparato prima io non è morto perché con me ci avevano due colpi con gli altri ci avevano più di due colpi cioè non è equilibrato a dove sta merda pezzo di merda ecco ha ragione Zeb arrabbiarsi di un gioco di merda perché purtroppo non è che ci sta quello che dice ma facciamoci una partita in rush no si mette là seduto ok perché sono rosso merda ci sta qualcuno ah però già che ne ho ucciso un altro sono felice dai tre uccisioni ho fatto ah perché io gli sparo due volte e non muore gli altri invece mi sparano due volte eh volevi dai ecco perciò gli altri fanno queste cose io non riesco a farle madonna che nervoso che mi viene che poi porca miseria cioè sto facendo abbastanza schifo come come un punteggio dai spero un giorno che prima o poi perché spero che prima o poi faranno un gioco decente la treia che l'activition cioè ok la modalità zombie ci sta mi piace un giorno compro backops 3 solo per la modalità zombie però il prezzo cioè per quello che offre non è che sia il top come gioco cioè mi diverto di più a perché io lanciato la bomba cioè non ha cioè se io devo morire ogni volta che mi colpiscono due volte fammi entrare in questa dannata dai ah merda se no gli avevo lanciato il razzo lo so però a me non mi piace questo fatto qua cioè un corpo un morto oh che fantasia quella frase è stata tolta da un altro gioco non sei tu la il prima a dirlo quindi stati zitta comunque a parte questa a parte questo vi dico breakups è realmente bello a mio parere ni nel senso se stanno le persone che sanno giocare non come me che faccio schifo ci sta è bella la partita ma non è il top del top per dirvi ci sono altri giochi che sono molto ma molto più belli quindi non dite breakups è tutto breakups qua breakups la no breakups non è un gioco diciamo abbastanza bello come dovrebbe essere perché vi ho detto ce ne sono altri e ora andiamo a vedere una cosa che io odio profondamente cioè a me ha fatto abbastanza schifo appena l'ho visto lo sapevo che non avresti capato ma tu puoi fare le missioni e comprarle con i contratti ok c'è del lavoro da fare ci sta ma che so se uno non ha tanta voglia di giocare nel senso come posso dire se uno gioca mi faccio la partita mi diverto si 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 e ci sta però non è che è obbligatorio ogni volta a farsi diciamo un mazzo tanto per poter sbloccare tanti oggetti e poi prendere delle casse che non mi ricordo cosa ci sia anzi giusto che ne posso aprire una apriamone una anzi un secondo poi mi sto dicendo il problema da aprirne una ok parta luga del becca ok parta luga decalcomania ah decalcomania ok questo ovviamente per come si chiama una modifica all'arma ah questo sarà un un altro stemma non saprei vabbè proviamo ad aprire questo qua dai tanto io non li aprirò mai vi devo far vedere giusto una cosa ok è roba che fa per te ok niente è giusto qualche cacata ho preso ora vi voglio far vedere il compra ma compra non è compra gli oggetti è compra i so cioè ecco la cosa che non mi piace caractivision cioè non ha senso come è difficile spiegare ciò che voglio dire cioè già che i vostri fans comprano il gioco dovete essere felici ma non che mi fate un modo in cui devono pure shoppare cioè 1,99 euro e 2 punti e invece 13.000 punti 99 euro cioè io compro a 60 euro il gioco più 100 euro sono 160 euro ma eh ma nessuno shoppa e si fanno quelle missioni ok ma se uno non ha tanto tempo ed è un bimbo minga cioè così facendo rovinatele la vita delle persone perché il bimbo minga che ha 7-8 anni chiede a padre di farsi dare la carta di credito per poter shoppare delle monete per poter prendere delle casse il gioco o lo fai free con il DLC a pagamento o lo metti diciamo a pagamento e lasci stare il diciamo il pay to win perché a mio parere non è un pay to win però se ti metti le casse eh ma bisogna guadagnarci su una cosa ci devi guadagnare come dico io gli youtubers su una cosa ci guadagni o sui video su youtube o sulle donazioni o sul cash che prendono negli eventi non su tutte e tre che mi ha dato mi dà abbastanza fastidio ok le donazioni se sa che viene donata una volta ogni tanto ci sta che uno guadagna su youtube le donazioni ok ma se vedi che guadagna 6 soldi su youtube e 6 soldi sulle donazioni è inutile mettere tutte e due su uno dovresti guadagnare non su tutte e due ecco la cosa che odio di activision che mette diciamo il diciamo gli oggetti da poter shoppare la cosa che mi ha dato fastidio io vi saluto e forse sarà l'ultima partita multiplayer che farò perché quando comprerò black ops 3 comprerò soltanto ed esclusivamente per poterci giocare con gli amici in modalità zombie e fare qualche let's play e forse una storia completa della campagna di black ops 3 che dirvi ci si vede in un prossimo video ciao